Lucca. Si è completata la lista dei favoriti per la nona Lucca Marathon. L'importante lavoro di Alessio Spelletti direttore generale, e di Daniele Del Nista addetto agli atleti, porterà al Via Domenica alle 9 dal baluardo San Salvatore atleti di caratura nazionale e internazionale. Anche quest'anno i favori del pronostico, sono per gli atleti africani con ervandesi accasati in Italia nella storica società marchigiana della Vini Fantini Sean Baptiste Simuqueca e Federica Bakurama. Il primo che ha scritto pagine importanti anche nella corsa in montagna con il GS Oricchiella Garfagnana, e che vanta un personale di 2.16 sulla distanza, correrà a Lucca oltre che per vincere anche per stabilire il record del percorso appartenente a Mohamed Haji in 2.14 nel 2015. Per Abba Kurama che corre la mezza maratona in 66 esordio sulla Pianclassiche delle distanze. Al femminile torna a Lucca dopo le vittorie nella prima edizione, e nel 2015 la la marina Denise Cavallini per testare la propria condizione prima della maratona di New York del prossimo mese di novembre, mentre favoritissima per la vittoria finale sarà la slovena Nikolina Sustic già terza nella storica 100 km del passatore a maggio 2017. Di rilievo anche la start list della 30 km dove spiccano al maschile i nomi di Alessandro Brancato, Andrea Pranno e Lorenzo Checacci del GP Parco Alpi Apuane e di Salvatore.